Perchè anche questo episodio centra qualcosa con questo discorso al di là della faccenda di Moro e del suo interrogatorio da parte delle BR? Perché in realtà il Partito Comunista ha trovato in Genova l'occasione per riprendere quota politicamente. In che senso? Nel senso che intanto con Genova viene riaffermato il principio dell'antifascismo come elemento fondante la legittimità politica nella Repubblica. Cioè non può governare un partito che è stato considerato ed è di fatto l'erede del fascismo come movimento sociale. C'è una delegittimazione costituzionale che viene ribadita attraverso i fatti di Genova che in qualche modo attenua quella delegittimazione politica da guerra fredda che invece aveva colpito il Partito Comunista. Il Partito Comunista non poteva governare prima del 60 perché era il partito che appoggiava le istanze dell'Unione Sovietica. Poiché noi eravamo nel blocco occidentale, l'Unione Sovietica era un nemico quindi avere in casa un parito comunista che tifava per il nemico non era pensabile. Questo è il ragionamento che Truman fa con molta chiarezza a De Gasperi nel 1947 quando De Gasperi tornano dagli Stati Uniti. La prima cosa che fa è allontanare socialisti e comunisti dal governo con i quali governava e pensare a un governo centrista. Quindi viene meno questo elemento importante. Viene messo il movimento sociale in una condizione di possibile scioglimento. Il discorso dello scioglimento delle MSI è una costante in tutti gli anni 70. Il manifesto che ho portato per la mostra che farete riguarda proprio questo problema, cioè lo scioglimento delle MSI da parte dei collettivi universitari che l'ho presi all'Università Torino dove studiavo. Cosa succede dopo Genoa? Succede che il Partito Comunista si riaggancia in maniera forte alla resistenza. E questo è l'elemento che ci serve poi per comprendere il terrorismo. E il 68 prima e il terrorismo dopo. Cioè la resistenza come elemento fondante lo Stato. Si dice che la Repubblica non è cambiata dopo il 1945, la società italiana non è cambiata, c'è una continuità tra fascismo e postfascismo. In realtà la democrazia cristiana non ha fatto i conti con i fascisti, si permette al Movimento Sociale di avere rappresentanza in Parlamento. La resistenza è stata tradita, qui nasce il mito della resistenza tradita. Cioè un fenomeno come quello della resistenza che aveva iniziato una pesante resa dei conti nei confronti del fascismo che poi è stata interrotta. L'epurazione contro i fascisti è rientrata, le condanne a morte sono state, ovviamente secondo questo punto di vista, molto poche. Chi è rimasto al vertice dello Stato si è inserito nella democrazia cristiana ma veniva dal fascismo. Insomma, ecco, la continuità dello Stato intesa in senso negativo è l'elemento che l'insurrezione di Genova immediatamente fa saltare fuori. Poiché l'antifascismo, come voi benissimo sapete, non è un fenomeno unitario, qui si pone un problema. L'antifascismo comprende tutte le forze politiche dai liberali nell'arco parlamentare dai liberali a sinistra, quindi dai liberali al comunisti. Con ovviamente visioni diverse. Antifascismo vuol dire essere contro il fascismo, ma si può essere contro il fascismo da cattolici, da liberali, da socialdemocratici, da socialisti, da comunisti, da extraparlamentari di sinistra. È un po' lo stesso discorso dell'anticomunismo. Si può essere anticomunisti sotto diverse forme e questo in qualche modo impedisce, ha impedito una utilizzazione unitaria dell'antifascismo. Cioè in realtà dopo la guerra, nel 1947, il fronte del Comitato di Liberazione Nazionale, cioè il fronte antifascista, si spacca. Una parte al governo, i democristiani, i socialdemocratici e i liberali, e una parte sta all'opposizione comunisti e socialisti. Quindi questo elemento di una pluralità interna dell'antifascismo è un elemento che ha impedito fino a quel momento all'antifascismo di diventare l'elemento effettivamente portante dello Stato. Dopo il 60 cosa succede? Non succede nulla di straordinario, ma succede una cosa importante, e cioè che prevale all'interno della componente dell'antifascismo l'elemento comunista. Cioè l'elemento comunista, che è quello che ha diretto in qualche modo l'insurrezione di Genova, che ha avuto la capacità di portare la politica italiana all'apertura sinistra e quindi all'apertura ai socialisti, ha affermato il principio che l'antifascismo di sinistra è in qualche modo più antifascismo dell'antifascismo di centro o dell'antifascismo di destra. È più coerente. E quindi il fatto di essere coerenti porta a rappresentare meglio lo spirito della resistenza e quindi porta a condizionare le altre forze politiche alle quali va fatto in qualche modo l'esame di antifascismo. Incomincia a nascere, soprattutto a sinistra, l'idea che questa democrazia liberale non sia adatta per preservare l'Italia dal fascismo e occorra fare altro, occorra impostare un altro tipo di politica. Siamo nel 1960, nel 1963 abbiamo detto ci sarà il primo governo organico di centrosinistra, ma nel 1962 succede un fatto particolare, un fatto che non sempre viene ricordato, sono i fatti di Piazza Statuto a Torino. Siamo nel 7-9 luglio 1962. Piazza Statuto è una piazza sostanzialmente centrale in Torino, non è proprio nel salotto torinese ed è una piazza che è semplicemente contigua a un quartiere un pochino operaio. Nella Torino del 1962 c'è una tensione sindacale molto forte, c'è una opposizione da parte sindacale della Cigelle nei confronti della Fiat strenua, c'è un contratto da firmare, il contratto non si firma, c'è uno sciopero generale, ma a un certo punto il fronte sindacale si spacca perché la UIL, il sindacato socialista, socialdemocratico e repubblicano, decide di firmare, a dispetto degli altri due sigli sindacali della Cigelle e della Cise, di firmare l'accordo con la Fiat. Questo determina uno sciopero, un rincludimento dello sciopero generale, ma soprattutto determina manifestazioni. In Piazza Statuto dove dal 7 al 9 di luglio i disordini durano per tutti questi giorni, parliamo di 3.000 persone coinvolte negli scontri, una sorta di guerriglia urbana che per Torino era del tutto nuova, i fermati sono 1.200, gli arrestati una novantina, varie centinaia di feriti tra i dimostranti e le forze dell'ordine. Perché è importante questo episodio? Perché avviene una rottura, a mio avviso insanabile, tra una parte del mondo militante operaio tolinese e la Cigelle e il PC. Questa rottura è, diciamo, in nuce quello che succederà poi negli anni 70 con la nascita dei movimenti extraparlamentari di sinistra. Io penso che abbiamo tempo, io vorrei reggere una cosa che ho trovato tra l'altro stamattina su internet e l'ho fotocopiata, l'ho stampata. Io credo che non dica niente a nessuno il nome di Sante Notar Nicola. Sante Notar Nicola è un operaio torinese, ma come il nome e il cognome denunciano viene dalla Puglia, è un immigrato. Nel 1962 è uno dei protagonisti dei fatti di Piazza Statuto. E racconta, ha raccontato questa vicenda, non trovava lavoro, gliel'ha trovata la Cigelle, dopodiché la Cigelle e il PC gli hanno chiesto di che adesso tu lavori per noi e lui si è messo a fare la cellula, si è messo a fare la commissione interna, eccetera. Nell'estate del 62, dice Notar Nicola, per la prima volta la base rivoluzionaria scavalcò apertamente il partito, chiedo scusa ma è una citazione, mandando a fanculo i vecchi tromboni. Un uomo si esprime in una certa maniera molto diretta. La battaglia durò tre giorni e l'unità ci chiamò teppisti allineandosi coi borghesi. Fu il crollo per molti compagni delle ultime illusioni di un ravvedimento rivoluzionario del PC. Mi ricordo di Paietta, era con noi, non sapeva che cosa fare, era con noi a Piazza Statuto. Paietta era di Torino. Il grande dirigente non era più davanti a una folla entusiasta ma in mezzo a gente esasperata che gli stava mangiando il piedestallo eretto in tanti anni sul suo passato di combattente. Quando gli arrivò una sassata in testa allora si risvegliò mettendosi a sbraitare contro i padroni e gli sbirri spingendoci all'attacco. Il suo passato di partigiano riemergeva dall'inconscio. Poi a mente fredda il giorno dopo sull'unità ci chiamò fascisti. Demmo tante botte in quei giorni e ne prendemmo tante. Alcuni compagni del gruppo come Piero e il Tranviere erano addirittura arrivati con tante pistole. La delusione più grossa l'avevamo l'ultimo pomeriggio. La polizia, quelle carogne fasciste del battaglione Padova. Il battaglione Padova è quello che viene mobilitato per i fatti di Genova ed è quello che subisce le legnate che vi dicevo prima da parte dei dimostranti a Genova. Era famoso per antisommossa. Quelle carogne fasciste del battaglione Padova avevano arrestato uno dei nostri più cari compagni della FIGC, Garino. Si erano rimasti in pochi, eravamo alla fine. Durante una delle ultime cariche Garino si era buttato avanti da solo contro i plotoni che avanzavano compatte. Lo chiusero in mezzo pestandolo. Cercammo di strapparlo agli poliziotti ma erano in troppi e ci ritirammo tutti i pesti. Poi la sera andammo alla festa dell'unità rionale. Cercammo di fare una colletta per Garino e per gli altri. I dirigenti ci aggredirono con aspre critiche dicendo che ci eravamo lasciati trascinare dai fascisti e dai teppisti i provocatori. Ricordo quella scena con rabbia e dolore. C'era la tavola solita. Le bottiglie di Barbera, gli agnolotti e i salamini caldi. Questo tipico delle feste dell'unità. La classica tavola piemontese a cui si riduceva ormai tutta la pratica rivoluzionaria di un partito che aveva innalzato un tempo sul fascismo e sui borghesi la bandiera rossa della speranza della rivolta. Tra un agnolotto e l'altro ci rimproverarono con disprezzo. Loro che non si erano mossi dalla botta del vino per tutto il giorno. Se quelli che si sono battuti con la polizia sono fascisti gridammo siamo fascisti pure noi. Certo che quasi quasi vi siete comportati da teppisti fu la risposta e qui fu la rottura. Prendemmo un tavolo con i salamini vino e bagna cauda e lo sbattemmo in faccia ai dirigenti. E quella sera per la prima volta tra compagni finì a botte. Questo episodio mi riempì di disgusto. Mi accorsi che ormai c'era dappertutto tendenza al riformismo, al compromesso anche in fabbrica. Fu un'esperienza nuova ma alla fine si trasforma in un rafforzamento della convinzione che fosse necessaria veramente l'azione individuale. Dopo Piazza Statuto riuscimmo a ritrovarci tutti per una messa a punto della situazione per i progetti con il futuro. I progetti con il futuro erano molto semplici. I progetti per il futuro che mettemmo su una banda che ebbe una vita molto attiva ma anche grosse contraddizioni. Questa è una storia ma è l'aspetto più importante che ho sempre ritenuto che il 68 non fosse altro che una lunga incubazione nata da quella piazza. Perché la rottura con il PC nasce sicuramente in Piazza Statuto nel 62. Per un casino di militanti a Torino, noi tre poi abbiamo fatto altre cose ma c'erano molti compagni che rosicavano da anni, l'attacco era soprattutto la dirigenza perché non era chiara, in parte l'avevano anche detto con l'ottavo congresso e con la via italiana al socialismo, però non ci stava bene soprattutto per la generazione come la nostra che veniva subito dopo la resistenza e che sempre ha avuto come riferimento la resistenza. E come era finita quella storia? Con tutta una serie di atti politici. Insomma, noi vogliamo fare come in Russia, era la parola d'ordine, vogliamo fare la rivoluzione. Noi pensavamo che ci fossero tutti gli ingredienti giusti per lo meno per farli evitare un dibattito di quel genere, ma avevano deciso altro e la nostra minoranza fu schiacciata. Quindi Piazza Statuto 62 è in qualche modo la prima occasione effettiva in cui si manifesta un malcontento da parte della base del PC nei confronti dei suoi dirigenti. Grazie. 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 Grazie.